Benvenuti a Casimiri Radio, lo spazio dedicato ai podcast dell'Istituto Casimiri di Gualdo Talino. Benvenuti a tutti a Verba Manent, pillole di latino, la nostra rubrica per prendere confidenza con questa lingua che spaventa un po' tutti noi studenti. Oggi con il primo episodio giocheremo un po' con alcuni motti latini che ancora oggi sono in uso nella vita di tutti i giorni. La professoressa ci consiglia sempre di prendere appunti durante la spiegazione perché Verba Volant scritta Manent. Io non l'ho ascoltata e oggi ho preso un brutto voto, ma ormai Alea Iacta Est. Non preoccuparti, verrà sperata astra e ricorda sempre, ripetita ai uvan. Tu fratello non fa mai compiti perché è sempre gli allenamenti di tennis. Eh, ben sana, incorpore sano. A proposito di salute, nostra madre ha appena sfornato i dolci. Sono ancora caldi, carpe diem.